ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel canale di sense game 8 e come vedete questa è la giornata demo e siamo con modern combat dominator vediamo com'è questo gioco perché non l'ho provato appunto perché è la versione di prova e sicuramente c'è il tempo limitato quindi dopo più di tanto non posso giocare se si muove sempre questo caricamento io devo parlare forte perché non mi sentite bene ok attendi di nuovo devo attendere di nuovo di nuovo devo attendere ok gioco online subito accesso in corso accesso alla stanza in corso partecipa in attesa di giocatori dovrebbe essere come i call of duty da come si vede in terza in prima persona cioè però non l'ho mai provato quindi no non lo so ti muovo dio santo in attesa di giocatori muovetevi giocatori ok che è successo perché si muove solo cambia ma cosa si deve fare scusa cambia compagno di squadra e quindi e io non gioco non ho capito sta cosa ragazzi questo sarebbe il gioco scusa ragazzi non so cosa dirvelo ciao ragazzi non so cosa dirvelo ciao la squadra è eliminato la squadra è eliminata e ma io non sto giocando proprio per niente cosa devo fare scusa ah ma cosi sarebbe sto coso nooo fa schifo ragazzi se è cosi o sono io che faccio schifo che non so cosa si deve fare sto premendo tutti i pulsanti caricamento eh caricamento mp5 ok ok gioca ah ecco ragazzi era ora era ora dove siete dove siete bastardi si mira così e sicuramente si spara così ok oddio c'è qualcuno che spara no ah bastardo hanno lanciato una bomba bastardo dai 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 no e di nuovo eeeh c'è chino di merda ah ho capito ho capito la tua squadra ha perso di nuovo eh però fa schifo sto gioco eeeh non ho capito allora riproviamo di nuovo se si muove partita finita lo so che è finita muoviti ma dio santo perchè ci mette così tanto ah è finito così ah è finito così in vita amica non posso perchè sennò non c'è nessun amico che è online vediamo che succede ora non quando l'altro vuoi cosa pluvi ora ma sache qui per Sconfitta, la tua squadra ha perso Partita finita Ma come? Cosa? Perché? Cosa cazzo sta succedendo? Ah, praticamente è finito così E fa schifo ragazzi Fa schifo completamente sto gioco Fa schifo Almeno la demo fa schifo E va bene ragazzi Scusate se ho Certo un gioco schifoso come questo E vi saluto Ci vediamo, ci vediamo, ci vediamo Domenica con...